Finto dentista sì, ma un vero e proprio truffatore che è riuscito a spillare 8.000 euro ad un'anziana vittima. È successo a Montevarchi, dove un uomo titolare di una partita IVA per il commercio di articoli igienico-sanitari si è spacciato per un medico dentista, convincendo in questo modo un'anziana a sottoscrivere un finanziamento bancario di 8.000 euro per pagare alcuni trattamenti sanitari, ma dopo aver ottenuto il denaro, il truffatore è scomparso. Per l'uomo con precedenti specifici è così scattata la denuncia per truffa, sostituzione di persona e esercizio abusivo della professione. Sempre in Valdarno, i carabinieri hanno scoperto e denunciato altri professionisti del settore, ovviamente quello delle truffe. A Montevarchi, infatti, altri due truffatori, attraverso un falso annuncio su un famoso sito di compravendita online, sono riusciti a farsi accreditare dalla vittima su una carta ricaricabile 900 euro. La merce ovviamente non è mai stata consegnata e loro hanno fatto perdere le proprie tracce fino al momento in cui i carabinieri sono riusciti ad identificarli e denunciarli. A Terra Nuova Bracciolini, invece, un pregiudicato di origine domenicana, ha utilizzato lo stesso identico copione, fingendosi però, in questo caso, interessato all'acquisto di un bene in vendita su un sito online e riuscendo a farsi accreditare su una carta di credito a lui intestata 500 euro. Ovviamente anche per lui è schiattata la denuncia.